Fermare eventuali iniziative di protesta già intraprese e rinviare la proclamazione dello stato di agitazione è quanto il sindaco di Salerno ha chiesto al prefetto e alle sigle sindacali in merito all'avvertenza che riguarda i lavoratori del comune di Salerno dopo la conferenza stampa attraverso la quale CGL Cisle e Will avevano espresso preoccupazioni e timori per una serie di decisioni finanziarie intraprese dal comune di Salerno che nel piano finanziario aveva previsto tagli e ridimensionamenti. Ora ci sarà occasione per un confronto con i sindacati in programma il prossimo 6 luglio al comune di Salerno alla presenza anche dell'assessore al binancio a Dinolfi. La notizia è stata commentata positivamente dal segretario della CGL Funzione Pubblica Antonio Capezzuto che si augura di aprire una grande stagione di chiarimenti e confronti con l'amministrazione comunale ed anche il sindaco Vincenzo Napoli questa mattina a margine di una conferenza stampa ha intervenuto sulla vicenda. Andremo avanti con una linea di trattativa ragionevole così come abbiamo sempre fatto e credo che non ci saranno problemi particolari da dover risolvere. Il problema vero è che dobbiamo dare inizio ai lavori di manutenzione urbana.